Ebbene a tutti ragazzi con me questo è il mio video, sono da pizza a scegliere, fino a che siamo a chiudere i problemi Star Wars come vedete ho scegli al grado 15 contro 35 mi dispiace per non aver potuto ottenere tutte quante le casse ma mi sono rilentata sul tablet e le ha aperte tutte quante non mi ha trovato niente, anche se è infortunata comunque sono salito un bel po' me le sono prese un po' tutte quante le casse vabbè ho detto, vabbè questa qui ormai non me la prendo cioè me la prendo tanto e le ha aperte tutte, non ho trovato lo stesso niente e oggi ragazzi andremo in una partita e porteremo scegli al grado 15 che è il mio primo brawler che porto al grado 15 e davvero non l'ho mai portato e quindi io direi di buttarci il partito ok eccoci andiamo andiamo vabbè poi ci facciamo porre una partita e con oh oh quella scegli la vedo cattiva ragazzi quella scegli è cattiva ok le ho tolto tanto le ho tolto tanto e ce l'ho super già ok mi prendo questa bella cassetta che all'angolino non si esclude mai la cassetta un po' con la città non ci fa mai male io direi di partire all'attacco dopo di che abbiamo già la super quindi un brawler lo eliminiamo sicuramente perchè riesce lì con la super è più forte di un brawler lo con 4 power up cioè oddio eeeh mo che ci ripenso di 4 power up no parlo se ce l'ha 2 si allora quel lato ne ho molto di più perchè noi abbiamo un power up solo non so se ho un bug ragazzi forse sta succedendo però va ma non so a me non mi escono i nomi della partita infatti prima ho giocato certe partite e non mi escevano non mi escevano dai nomi proprio comunque ragazzi avete presente le miniature le miniature quando fanno i video e usciranno tra poco cioè forse in questo video non so se usciranno però ah eeeh comincerò a fare video anche su computer di minecraft e comincerò una nuova serie di minecraft su computer eeeh eeeh appunto comincerò una serie quindi farò video anche sul pc però un bel po' cioè visto che farò video sul pc eeeh non solo sul pc ma a parte pc 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 eeeh eeeh sto morendo eeeh non ci deve interessare molto la parte comunque ragazzi abbiamo ci abbiamo inserito 15 comunque e in pratica ragazzi volevo dirvi che eeeh farò video di fortnite escono pochi video giusto perchè c'è su playstation ed è difficilissimo fare video dopo di che non so nemmeno come si fa ho cercato su youtube eeeh non ho capito bene cerco di rivedermelo ma non ho capito quindi forse avrò forse 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 perchè non ne sono sicuro sono fortunato forse me lo danno ma ora non ci pensiamo eeeh andiamo guardate ragazzi che lascio il mio primo brawler a grado 16 perchè io negli altri accanto non ho mai avuto altro brawler a grado 16 16 ecc ok è un po 3 brawler vabbè la prima grado 16 scegli e portiamoci ragazzi la nostra rosa no direi che non sapete che vi dico mi prendo brock non c'è ricercati peccato 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 a me piace molto ricercati andiamo che posso prendere che mappa posso prendere raffacce rapina ma andiamo con rapina ragazzi tanto se perdiamo non perdiamo tantissime coppie soprattutto con il nuovo aggiornamento che ci danno in bozzi coppe prima ho vinto più 10 coppe mi hanno dato io pensavo prima che e boh era soltato sul mio però poi ho visto che è uscito il nuovo aggiornamento e allora ho detto ah ok quindi vedete questa scritta perché io a rapina non ci ho giocato mai perché mi è sempre comparsa la scritta mi devo mettere là no 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 quasi sotto perché non mi fa pazzi dire ok 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 ragazzi io devo dire di andare lasciamo stare quella penna che ci ha dato un po' di fastidio a parte tutto ciò la stiamo distruggendo buttola dei razzi buttola dei razzi e la danneggio no c'è la penna non è vero non è vero e invece si cavoletti però cavoletti ce n'è uno alla nostra casa la nitta maledetta nitta malefica ti distrugga nitta non si deve mai fidare comunque stiamo facendo un botto di dolore a quella penna ottimo il dolore a penna io direi di lasciare da parte la penna e buttiamoci in mezzo con la super mamma mia facciamo fuori pure i penni ragazzi io me la faccio fuori la penna boom 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 e tra la la però non riesco a fermare tutta quanta peccato peccato però 44 per cento c'era qualcuno quindi alla nostra casa che noi stiamo facendo molto po' di attaccare ragazzi state vedendo poco a difendere di più che non ho sprecato la super mamma mia quando sprecola è super ok la c'è un bombardino la intanto sta perdendo vita quindi c'è qualcuno ok la c'è una genese direi di lasciare perdere no 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 e se invece la butto in mezzo e se invece la butto in mezzo la super e non ho fatto niente no oddio 24 per cento ragazzi ce la vinciamo ce la vinciamo ce la vinciamo ce la vinciamo questa qua è vinta ragazzi è vinta io vi dico che è vinta quando è vinta quando ve lo dico io ve lo dico io lo sapete lo sapete chi sono io io sono davis oh 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 e ora quando finisce la partita cosa succede? devo andare no non mi direi che finisce il po' reddo dimmi che non finisce il pareggio è vinta o è pareggio? ok ok pure il migliore ragazzi vabbè bella partita comunque state vedendo che i gettoni esteri li sto accumulando ci sono fatti due casse che non le apro e io non le apro e farò anche per esempio questo qua nuovo obiettivo no la terrò e arriverò per esempio 2200 casse arriverò a 15 casse piccole che ne so due casse enormi e farò il box opening sto sudando sette camicie oddio non è che sto è la maglietta quella che sto suonando e beh ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e veicolo e lasciate un bel palicione insomma ahia e iscrivetevi al canale attivate la campanellina notifiche iscrivetevi al canale qui attivate anche la campanellina delle notifiche e distruggete il like distruggetelo distruggetelo col martello del vostro davis è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao